Ciao studenti, oggi parleremo di Giuseppe Parini, poeta del Settecento. Fu il precettore di un duca milanese e ricoprì diversi incarichi pubblici, essendo quindi un poeta impegnato. Le sue opere più importanti furono le Odi, che ne furono 19, che si dividono in quelle civili, che trattano di tematiche contemporanee che riguardano la società civile, e le Odi dell'ultimo periodo, con temi intimi e personali. Poi abbiamo Il giorno, che è sicuramente l'opera sua più famosa, è un poema incompiuto che fa parte del genere satirico e didascalico. Diviso in quattro parti è il racconto della giornata tipo di un giovin signore dal punto di vista del precettore. Il maestro deve istruire il nobile sul modo migliore di trascorrere le varie parti della giornata, ma in realtà è un'occasione di critica. I nobili ormai conducono una vita vuota, dedita soltanto alle feste e al divertimento.